Oh, ciao amici, vi svelo un segreto, quando ero piccolino mamma mi mandava, mi dava il cesto con del cibo e mi mandava aiutare le famiglie bisognose del mio paese. Ma siccome i bambini non possono intibesire, se volete fare un buon gesto potete mandare un contributo al Fondo Emergenza Coronavirus del Comune di Cagliari. E il Comune penserà aiutare tutte le famiglie bisognose. Quindi mi raccomando, vicioccuso, prima di si va e mandare, mandate un contributo al Comune di Cagliari. E mi raccomando, meno usciamo, prima non usciamo e meno se ci vuoi uscire. Ciao, arrivederci, si gettano su bambini, che stiamo facendo? La raccolta a fondo!